La te, la te, la te del culo La te, la te, la te del culo Forti e bravi, forti e bravi Tutti contenti, com'è andata? E' andata e si è fatta una gara con il cuore Perché ci si volevano mettere e ce l'abbiamo messi E' stata un'emozione bellissima Dopo ottobre poi vincere i due carri così E' bellissimo, favoloso Siamo con uno degli arcieri più alti dei quartieri Gli arcieri più alti ma meno vittoriosi Però ci rifaremo dai Questa è stata la vittoria più bella nostra Soprattutto mia Visto che la forma è quella che era Non era proprio al 100% Quindi è stata la vittoria del cuore Ci voleva, il quartiere ha bisogno E l'emozione è impressionante Insomma regala questa gioia Ve la siete giocata tutta la fine Ma siete partiti benissimo Siamo partiti benissimo E poi abbiamo avuto qualche intoppo Insomma vabbè Gli altri quartieri erano fortissimi anche loro Infatti diciamo non ce l'avevamo dati per spacciati Ma insomma abbiamo tenuto duro fino all'ultimo Grazie Abbiamo festeggiato il travaglio pochi mesi fa Perché la Sagra del Tordo 2012 era vostra E adesso anche la 51esima edizione dell'apertura delle cacce E' una sensazione incredibile E' stata veramente dura perché ieri abbiamo partito lo scotto della provaccia Probabilmente perché era da tanto tempo E i ragazzi entrambi non facevano proprio la provaccia Perché a ottobre Andrea era andato direttamente in gara La provaccia l'avevamo saltata A Medeo è stato praticamente un anno quasi due fermo Quindi ieri abbiamo sentito lo scotto del campo Però ci siamo guardati negli occhi con i ragazzi Io mi fido di loro Perché sono veramente veramente bravi Col cuore E col cuore si vince E col cuore si vince